Siamo qui al Terme della Ghe, al Monti d'Oglia, che è un turco di quasi 400 metri di altitudine. È caratterizzato da una vegetazione a matta mediterranea, i boschi di Pi, i boschi di Alzina, un alzinare. Antichamente tutto ciò, tutto quest'area era coperta da una vegetazione a boschi di Alzina. L'attività umana ha determinato che a poco a poco che il bosco vada a scomparire, si forma una vegetazione meno adatta per la ramaderia. Tutta l'area di Monti d'Oglia, cap della casa che sta andando al nostro, e tutta la badia di Porticonta, va a essere istituita come parco naturale nel 1999. La badia di Porticonta ha un'importanza naturalistica, ma ha anche una grande importanza per i nostri Algaresi da un punto di vista storico. Qui nel 1353 la flotta catalana va a guagnare una battaglia navale, drammatica, contro la flotta di Genovesi e conquista l'Alghei. Della ora l'Alghei diventa una città catalana. L'area del Porticonta è considerata un'area di importanza mediterranea per alcune colonie di Oselzi marini. Per esempio, il cor marì, per esempio ancora la valdrega cendrosa, che a l'Alghei se diu gaurla perché è un nome onomatopeic. Qui questi animali formano colonies molt importanti dal punto di vista numerico. La valdrega cendrosa cria una colonia di quasi 2.000 parelli. E invece è una colonia di Oselzi di tempesta che non si conoscevano. E avui i ultimi sensi donano quasi 1.000 parelli di questo animale. Due animali sono fondamentalmente collegati alla costa, avui non cria un mese, che è il bo marì, che fin da l'Usanzi Ciscianta ancora era presente nel nostro termas, nel terratore dell'Alghei. E un altro animale, l'agila pescetera, che avui non cria un mese. Da un punto di vista geologico, questa è un'area carsica, che ha una storia molto larga. Il capo della cassa ha un'altitudine di quasi 170 metri, sono pengiassagati. E la punta più alta, il pengiassagato più alto che noi abbiamo, è punta cristale, a 320 metri di pengiassagato. E tutta questa presenza di pengiassagato, favorece anche la possibilità di alcuni animali, per esempio rapignarsi, di poter creare. Nel 1998 il Consiglio Comunale dell'Alghei ha creato di propondere alla regione di istituire un parco. è un'area che nell'Usanzi Ciscianta era stata proposta per realizzare un grande insediamento turistico, quasi 40.000 posti litri, cioè vuol dire una città più grande dell'Alghei. L'Alghei ha fatto una gran battaglia per difendere questi territori. una parte dell'Alghei ha voluto che a chi, al posto di realizzare una grande speculazione turistica, fosse un parco. Nel nord oeste di Sardegna, a capo a nord del territorio dell'Alghei, c'è un'altra area molto importante che è un'iglia, l'iglia della Zinara. Fins al 1997 era una presenza molto importante per l'estate italiana. Nel 1997 l'estate italiana, il Parlamento italiano, determina la fine di questa utilizzazione dell'iglia della Zinara ed istituisce il Parc Nacional dell'Alghei. Dopo di più di anni di vita del Parc Nacional dell'Alghei, si può dire che anche questa è una realtà, abbiamo una buona gestione, abbiamo un diretor straordinario, Carlo Forteleoni, e questo ha determinato che il Parc della Zinara sia una delle aree per l'importanza, sia storica, che è molto lunga, sia naturalistica, perché un'iglia di 50 km2 è un'iglia che per la Sardegna, per la Mediterranea, ha una gran importanza. Hospitan anche diversi endemismi, soprattutto botanici. Una, che sia il Parc di Porticonti sia il Parc della Zinara, è una planta molto antica, che è la centauria orrida, che è un endemismo sol di questa area. Una caratteristica dell'iglia della Zinara, che avui abbiamo anche nel Parc di Porticonti, è l'ase blanca. La storia di questo animale non è ben conoscura. Probabilmente arriva a Males Fenicis, come animale di compagnia, è un albì, chiaramente, e la Zinara forma una popolazione salvaggia. Sono 80 o 100 animali che caratterizzano la Castiglia, sempre nell'iglia della Zinara, e c'è una popolazione salvaggia di Aze Saar. Abbiamo anche una popolazione di cavalli salvaggi, una popolazione non gestionaria dell'uomo, a una proporzione del 50% al 50%, quindi la maschera del 50% di famiglia, quindi la situazione naturale di qualunque popolazione animale. e questi cavalli sono i cavalli sars, che sono molto più piccoli. La prima cosa della gestione dell'uomo è quella di conservare assolutamente due piccole plagi, che sono la plagi di Sant'Andrea e la plagi di Arenas, perché queste due plagi hanno una situazione straordinaria di conservazione. Sono due plagi di come sono le plagi della Mediterranea, prima che l'uomo la sfruttasse per fare il turismo. Questa triarea che il parco ha fatto costa, costa perché è difficile far comprendere alla gente che una plagi di Tammaca non possiamo andare perché è una plagi che va conservata, perché ha una finalità, chiaramente la gente si explica, però alla gente costa comprendere questo. A poco a poco il parco ha formato le guie, che fanno una grandissima faena per informare e formare tutta la gente che va a Liglia per visitarla. A Liglia della Zinara c'è un numero tancato di persone che può entrare ogni giorno, quindi non c'è mai tanta gente che non può vivere un'esperienza di total silenzio. L'opera culturale, che è un'istituzione culturale che lavorano per la difesa della nostra lingua, della nostra cultura e del nostro territorio, perché noi siamo convincisi che potessero una cultura senza un territorio e non potessero un territorio senza una cultura. Questa opera culturale ha proposto al Parque dei Porti Conte di collaborare con la Charsa dei Sparks della Diputazione di Barcelona per l'organizzazione della Poesia dei Sparks. Abbiamo evidenziato anche la collaborazione con l'Istituto dei Studi di Scatalanzi, che per noi sono un punto di riferimento importante. Io sono membro della corrispondenza della sessione biologica dell'Istituto dei Studi di Scatalanzi, che è un gran honor di far parte di questa istituzione. E con l'Istituto dei Studi di Scatalanzi, con altre istituzioni come la Fondazione Alcina Bonfil, va portando a marcia l'idea di realizzare una sessione dell'Università Catalana d'Istituto dedicata alla gestione della costa della Mediterranea.